ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi finalmente sono qui a girare un altro video ho eating e oggi ho un menù delizioso almeno secondo i miei standard ho della viale cinesi fatta in casa in versione vegetale poi ho e presto arriverà sul canale anche la ricetta comunque dentro c'è persa zucchine, carote e cipolle anche se in realtà il top sarebbero i cipollotti poi abbiamo dei finocchi con olio e sale e dei ceci al forno che sono tipo la scoperta del secolo se non sapete cosa siano vi lascio tutto qui giù in descrizione dovete 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 farli dovete provarli vi obbligo allora oggi come in tutti i video eating parliamo di serie tv principalmente perché mi piace mangiare e chiacchierare di serie tv come se fosse quasi una cena fra amici no? partiamo subito con l'assaggio del primo raffiolo ovviamente lo immergo nella salsa di soia che ho qui eccoci qua come un po' adoro la follia vi faccio sentire anche la consistente dei ceci che sono croccanti in realtà sono stati fatti un'oretta fa quindi ho perso un po' di croccantezza ma appena uscita il fono sono una cosa in questo caso ci ho messo olio, sale, pepe e paprika ah e qualche foglia di regano che ho sul palcone in realtà proprio qui dietro di voi buono e poi appunto ho dei finocchi perché volevo fare proprio un pasto equilibrato quindi ho verdure cotte verdure crude proteine carboidrate dati dai ceci e vabbè dalla pasta dei ravioli buongiorno di ravioli volevo anche un po' avere delle delle consistenze diverse da farvi ascoltare questi ravioli sono uno dei miei piatti preferiti in assoluto io adoro farmeli a casa perché li faccio esattamente come li voglio io so cosa ci metto sono un po' lunghi però alla fine si possono congelare oppure si può fare tanto ripieno tu puoi fare solo la pasta quindi è la prima serie tv di cui vi voglio aggiornare è che è un dottor house che sto riguardando ho appena guardato su italia 1 e quindi lo guardo volentilissimo a cena adoro dottor house probabilmente ne ho già parlato è una delle mie tv preferite in assoluto lo trovo geniale e no veramente adoro quella serie tv mi intrattiene sempre non sono particolarmente tipa da serie tv medica ma questa l'adoro ho già guardato tutte le stagioni e alcune me le ricordo alcune puntate no però mi piace proprio guardarle perché onestamente se no vi dico alcuni sono rimasti molto trottanti onestamente l'alternativa era il telegiornale però cena non mi piace piuttosto a pranzo non c'era proprio ho pure quattro ristoranti però dopo un po' stavano andando sempre le stesse puntate sempre c'è pasta tipo ma vi giuro la puntata sull'alternativa ho lanciato due volte in due settimane che buoni poi in questo periodo ho guardato alcune serie tv dovete sapere che io guardo tantissime serie tv perché molte volte le guardo mentre stiro, mentre faccio i lavori di casa mentre metto a posto mi tengo una propria compagnia e ho guardato mi avete consigliato regna proprio me l'avete consigliata su me l'avete consigliata su instagram quando vi ho chiesto un consiglio per delle serie tv storiche e mi piace tantissimo anche se ho dovuto prendermi una passo alla serie tv quando avviene un avverimento diciamo che vuol dire storia quindi non è, si sapeva non voglio fare spoiler però e mi sono presa una passo tutta settimana perché ci sono rimasta troppo male però poi sono andata avanti diciamo che la serie perché è un po' da lì però è comunque molto bella la sua storia e mi sono appassionata sì della sua storia sì quella di Elisabetta prima e perché comunque sono due regine donne in un'epoca in cui le donne non è considerate meno di zero non è considerate meno di zero tra l'altro io volevo chiedere se conosciate qualche libro su Maria di Scozia o su Elisabetta prima di di quei proprio storici che raccontano un po' la loro storia perché mi affascina molto mi piacerebbe leggerne un paio non ho mai letto libri di questo tipo ed è Grazie a tutti. Poi, durante la pausa di Reign, ho guardato Dynasty. Allora, la prima stagione me l'ha piaciuta molto. La seconda, normale. La terza, Ni. È carina. Nulla di che, è una di quelle tipiche serie tv che ti metti a guardare facendo solo questo. Ecco, va bello. Ma guardi, appunto, facendo altre cose e con un occhio sì, un occhio no, diciamo con un mezzo cervello a guardare la serie tv. Se avete guardato le prime due, ho guardato anche la terza, però nulla di che. Poi, ho guardato... Non mi giudicate per quello che sto per dire, ma ho guardato due stagioni di Keep Up With The Kardashians che hanno messo su Netflix e è carino, cioè è tutto recitato più che altro, cioè è molto finto, però alla fine è bello ed è delle persone prima della loro, cioè erano già celebri, ma non così, 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 così tanto. E soprattutto vedere, tipo Kylie e Kendall, così piccole, soprattutto Kylie famose, darli da... e non le seguite anche su Instagram, non è proprio informata, però alla fine è carino e interessante, anche qui è una cosa molto frivola, ecco, giusto per... ... ... ... ... ... ... ... ... è una fame stasera che li mangia di tutti ma sempre hanno mangiato pochissimo perché sapevo che aveva fatto questo video è proprio un po' Sì, sì. questo è ciccionissimo guardate qui non metterò poco mai poi vediamo cosa ho guardato sto provando a guardare i chiudori però ragazzi non penso sia il mio genere di serie tv regnano un po' più romantica così invece questo è un po' più intrighi così però non lo so non lo so non penso faccia per me io non voglio sforzarmi di guardarlo sicuramente la storia di Enrico VIII è affascinantissima è particolare però non voglio sforzarmi di guardarlo non voglio sforzare pronti per la mangiata di cici croccante la sfeva impazzisce per i ceci, questi poi croccanti la fanno impazzire per quelli che diventano gli occhi spiritati, per il generale vi ci sono anche i ceci proprio bolliti così senza sale, senza niente, la fanno impazzire, mi mangio ad una velocità le fanno bene quindi bene poi ci sono serie tv che stanno per uscire, non vedo l'ora allora dovrebbe uscire la terza e ultima stagione di Dark chi ti vuole l'ha già vista? no 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 a me piace tantissimo come serie e non vedo l'ora di vedere la terza perchè so che sarà delicatissimo e... quella, ecco questa tipica serie tv invece che devi guardare da sola, prestano attenzione solo a quello e sono contenta perchè la guardano anche il mio ragazzo quindi la guarderemo insieme ok direte quanto cavolo sta mangiando questa qui? ok sì però alla fine sono verdure verdure quindi poi devo uscire a Stranger Things, penso a Luglio poi devo uscire a Stranger Things, penso a Luglio e infine spero che esca presto perchè che cavolo non vedo l'ora la quinta stagione di Lucifer quando dovrebbe uscire forse a giugno ci hanno lasciato in maniera assurda e hanno aspettato che vabbè sono stati bloccati anche per questa situazione e niente questa direi che sono le serie tv che mi vengono in mente ora e che ho guardato... capendo? ah ho guardato Riverdale l'ho guardato giusto perchè la voglio guardare tutta ma... un po' trash fondamentalmente l'unica che mi ha preso davvero tanto è stata Regna è stata bellissima c'è proprio una di quelle serie tv che forse un po' mi riguarderò perchè è molto bella e poi se avete delle serie tv da suggerire nei commenti suggeritele insieme sia ad altre persone che stanno cercando serie tv è bello quando si forma un po' una community nei commenti dei suggerimenti ci si scambia delle opinioni alla fine è una sezione che è bello che sia utile oltre che per me anche per voi questo è anche l'ultimo il viola perchè comincia ad essere pieno per favore per favore bene, se siete arrivati fin qui ditemi nei commenti cosa vorreste vedermi mangiare nel prossimo video di eating ovviamente vegetale e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio si aggiunta l'ora di abbassar le luci a curarvi curarvi una buona buona buonanotte buonanotte pasticcini buonanotte 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 soñitor good night sweet dreams buonanotte buonanotte sueños buonanotte 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 good night poonanotte Calisper